Sì, ho, ah no, sì, sto, eh, non la stupo, è che stai da sbagliare, sì, non la stupo, è che stai da sbagliare, sì, non la stupo, è che stai da sbagliare, sì, non la stupo, è che stai da sbagliare, e vedi un po' di sbagliare, sì, non la stupo, è che stai da sbagliare, sì, non la stupo, è che stai da sbagliare, ok, ciao, ciao, ciao. Le due anime, invocate, sono già comparse sulla nuvola, sembrano più o più fatte. Le amiche sostengono che sono le anime adesso trattate nei loro sogni, le anime sostengono di non essersi allontanate dal paradiso, e nel frattempo che le amiche si incontrano sull'anguola, le api... Angioli? Angioli? Sì, vedi che mo' ci parla di spagna, eh, che un po' di buono, ci sono un po' di buono, è troppo strano, è troppo strano, sì, vedi che mo' ci parla di spagna, e fa tutto per tutto che io, ho scelto un pò, quindi io lo faccio il mio paese. E questo è un pò di buono e lo faccio il mio paese. È di più di buono, è quello che mi sto amico, ma è tutta l'ambiente? È così, proverà così. E questo è un pò di buono. E questo è un po'. Io lo faccio a tutti. Quindi ci sono più rarmi, ma il mio paese è rarmi. E questo è un po' di buono, mi è tutto backgroundino, io c'ho fatto l'amico, E questo è un po' di buono, questo è un po' di buono, e questo è un po' di buono. Sì da Milano, a Maria Pizzi. Quello che stai a me non ci capisci bene, vediamo da raccontare, piccola stessa, piccola stessa, con la rete, ma un su due, un su due, guagno, chiede, ma la tua moglie, e la tua squadra, e lì vediamo da neve, sulla caluncia. Sei bravo? Non vuoi essere, non ci sembrava da dire, è bella roba, prende la mente e prende la mente, non ci penso di volare. Beh? Beh? Che cosa mi dice? Ehi, e la mia voce la bella dell'arte. Ehi, che bella, va là! No! Oh, eh, l'anno che sta, che stanno contando, non sono meglio. Guarda, qua, e là, c'è un brogno. Ii, dopo sono caccomo, per essere giù in su, abisciù. Ii, sempre qua, sostegno. Vada a me, perché ci vanno a me. Com'è, scompà? Ma qua, insomma, insomma. Noi non siamo giù insomma a nessuno. Sono loro che si sono influenzati tra loro. Noi si vanno venuti a uscire. Io sono sicuro che, quando tutti i tre mesi giorni ci vedono un padre, hanno parlato, pipì, pipì, pipì. C'è un po' che ho i giorni. E alla fine, 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 mi dice, Ah qua, ma c'è nuovo lì. Oh, è ragione! È ragione, è moro. Cascola da quando sta imparato, non è sempre ragione. Allora che troppo la terra, che ti devi sempre trovare. A cominciare dalla famiglia. Oh, non parlare dell'altra scrittura. A subattore, da subattore, in tutti i partiti, a così stessa sfida. Sono venuto la divenga un bar, scuffano, perché hanno messo il tuo posto e ci fanno segni di insofferenza. Ma tu vedi che sei su niente? Niente? Che? E non lo so, io sto dicendo quanto il marito mi chiedevo provare la parte di un caduto e mi faccio mentire un terzo in bosca. E non lo so. 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 E non lo so ultimately. E nemmeno a chioderno ancora quella, e poi. Andate qui. E non lo so. Perché il punto hęãnd되ca lenta in there? ma non è costante ma non è costante ma non è costante perché non sei c'è un povero marino se tu pari tre ma non sei eh mio dio non è già ma no ma no oh Le altre fanno sempre con la mano per dire Ah, capirella, scopri i nostri difetti. Non sono più che questi soggetti a calire. No, no, no. Dio, adoro morgo, e date poppingonoUR Knee davo值 idelio da un bel altro Mi colgo alleo, non avevo nelleole recipes Dio, yesu-quista anche è larga Mi colgo che mi sopp wraffa Dio, yesu-quista mi sopp нрав di te dio, yesu-quista è san' Gioan, pello migra, ali sali per i alcuni carnell Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.